E' Madonnina di Fatima che abbiamo comprato alla conclusione dell'anniversario centinaia di apparizioni di Madonna a Fatima e stava qui e quindi io penso e abbiamo pensato come si poteva succedere che è il punto di arrivo di Missile e poi è arrivato un pezzo schiacciato la finestra, è saltato e fatto cadere Madonnina perché si vede che non è proprio schiacciata e si è rotta perché è caduta per terra e è caduta perché è arrivato questo pezzo di Missile e noi abbiamo voglia di rinnovarla di sicuro perché c'erano persone che dicevano allora vi vogliamo aiutare forse comprare un'altra figura e noi abbiamo deciso di provare a rinnovare questa perché l'importante è che faccia è proprio quasi intoccata, si può rinnovare quindi abbiamo questa voglia anche